La persona umana ha creata immagine e somiglianza di Dio e unità di corpo e spirito. Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo i partecipanti al congresso della Società Italiana di Chirurgia Oncologica. La malattia, ha detto il Papa, con il suo carico di dolore e sofferenza, riguarda la totalità della persona. Da qui l'esigenza di una cura integrale che unisca la cura medica, il sostegno umano, psicologico e sociale, l'accompagnamento spirituale e il sostegno ai familiari del malato. Perciò è indispensabile che gli operatori sanitari sappiano attuare un approccio compiutamente umano al malato per riconoscere la dignità e il valore di ogni persona, in qualunque condizione si trovi, dal concepimento fino alla morte.